I ragazzi che sono qui al lato del palco sono quelli che interverranno e che saranno poi il centro di questo incontro con voi che ascoltate. Sono del liceo Immanuel Kant, quindi un liceo che si trova sulla Casilina a Roma, quindi decentrato e che io non conoscevo. Questo incontro che ho avuto con gli studenti del Kant e con l'istituto stesso, insomma con gli insegnanti che si sono operati per l'organizzazione di questa che poi risulta essere una manifestazione, è stato molto vivo e l'impressione che ho ricevuto dall'istituto è stata un'impressione estremamente positiva perché c'è nel corpo insegnante, in quegli studenti che insomma seguono con più partecipazione a queste iniziative, un gran fermento insomma, c'è molto movimento di idee, di curiosità soprattutto e poi di ricerca. Quindi anche se ci siamo purtroppo visti per poco tempo, due incontri insomma abbastanza brevi per le tante difficoltà che ci sono appunto all'interno di un istituto in questo momento dell'anno eppure sono, è stato un rapporto credo estremamente positivo perché, intanto perché continuava ad esserci quella curiosità che è insomma poi il motore della conoscenza e quello che porta a ricercare le cose che poi ci ci nutrono insomma culturalmente e perché è una cosa che ho notato e che mi ha colpito insomma particolarmente è che nessuno per esempio mi ha chiesto o mi ha fatto quella solita domanda che spesso si fa a chi scrive poesia, che significa questo verso, che vuol dire non capisco, ecco questo atteggiamento non c'è mai stato, quindi in questi ragazzi che adesso sentirete parlare, questi vostri coetanei studenti del CANT c'è già una consapevolezza, una coscienza insomma personale che sicuramente si è sviluppata e cresciuta anche per merito dei loro insegnanti, in particolare del professor Gianni Elia che è quello che col quale io ho collaborato a creare e a portare avanti questi due incontri. Allora voi questa sera ascolterete, questa sera veramente questa mattina sono un po', stamattina ascolterete il resoconto di questi incontri attraverso delle brevi lettere che gli studenti che hanno partecipato ai due incontri al CANT mi hanno scritto, sono delle lettere molto brevi dove però insomma anche qui avrete modo di verificare il fatto che la loro è una posizione di giovani molto motivati, molto concentrati su quello che hanno ascoltato della mia poesia, su quello che hanno letto e sulle riflessioni che poi hanno fatto. Allora io non vado oltre e invito a venire sul palcoscenico, magari di il tuo nome e cognome, dite tutti i vostri nomi prima di cominciare. Grazie. Io sono Cristian Casinelli del liceo Immanuel Kant e leggo, leggo. Cara Daniela, abbiamo trascorso dieci ore in compagnia dei tuoi versi e di queste quattro in tua presenza. È stato un tempo nuovo per noi, è passato velocemente ma nello stesso tempo, a ricordarlo, sembra che sia stato lunghissimo. Abbiamo indagato la profondità delle tue parole in maniera naturale, senza l'apparato di note, commenti e contestualizzazioni cui siamo abituati. Ci siamo fidati di noi, di noi stessi e della conoscenza della nostra lingua. Abbiamo ascoltato il senso che le tue parole prendevano nel nostro vissuto. I nostri sentimenti e ricordi personali si sono mescolati ai tuoi. Conoscere i tuoi versi prima di te aveva creato in noi un certo timore. Poi ci hai detto che il lettore, nell'atto della lettura, è come il poeta, sente allo stesso modo. Ciò ha trasformato la distanza in una straordinaria vicinanza. Grazie. Mi chiamo Irene Meniconzi e sono del liceo Immanuel Kant. Cara Daniela, quando abbiamo letto in classe una nuova moda di abitare le stanze, ho provato un senso di stupore e inquietudine insieme. L'idea del tempo che passa, delle generazioni che si avvicendano, del nascere e dell'invecchiare, della morte, l'idea che nulla può affermare questo scorrere inesorabile del tempo, è come se si fosse presentata a me per la prima volta. Sarà stato il ritmo di quel brano lirico o la capacità evocativa di alcune espressioni, quali l'assuzza del tempo. Solo il tempo non muore mai e per questo dà un senso a tutto, ponendoci dei limiti, come la morte stessa, ci permette di godere di ogni istante come se fosse l'ultimo. Salve, sono Michela Sabani del liceo Kant. Cara Daniela, durante il nostro corso abbiamo letto alcune delle tue poesie e abbiamo cercato di comprenderle e interpretarle secondo la sensibilità di ognuno di noi. La cosa che mi ha lasciato più stupita è il fatto che, parlando con te, abbiamo scoperto che i tuoi versi esprimono sentimenti e situazioni condivisibili, anche laddove noi credevamo di vedere significati non immediati e lontani dalla nostra realtà. E forse è questo l'aspetto più bello del poeta, saper estrarre le cose essenziali dalla vita, facendole passare attraverso il filtro dei propri sentimenti, per poi riportarle su carta. La poesia che preferisco è una livida pace, perché vi avevo visto la morte e invece, rileggendola dopo le tue delucidazioni, vi ho trovato proprio e solo la vita. Ho sempre amato leggere e scrivere poesie e vorrei ringraziare proprio te per aver reso in parte questa esperienza possibile e per aver condiviso con noi il tuo universo e alcuno dei sospetti sorprendenti. Cara Daniela, innanzitutto vorrei dirti che i tuoi versi mi hanno condotto in un viaggio singolare, da cui sono scaturite molte riflessioni. Sono stato particolarmente colpito dalle poesie contenute nel libro di questo mondo, nella sezione L'arte del possibile, incentrate sul tema della morte. L'arte del possibile è la vita, come tu ci hai rivelato. Mi sono soffermato su alcune immagini, chiare nella loro luminosità, ma oscure nel loro messaggio, che hanno destato in me sensazioni di conflitto e, in un certo senso, di mistero. Mi interesserebbe molto chiederti il perché, non solo di questo tema, ma anche del mistero e del caso nella poesia e nell'esistenza. Buongiorno, sono Chiara Caritta e vengo da Alimaneulcant. Cara Daniela, ho sempre pensato che soprattutto nel presente sia estremamente difficile, se non addirittura impossibile, che la vita prenda un corso che ci realizzi completamente come persone e che ci faccia sentire vivi e arricchiti di rinnovato entusiasmo per ogni giorno che passa. La tua poesia e successivamente l'incontro con te mi ha permesso di acquistare maggiore fiducia a me stessa, in ciò che scrivo, ma soprattutto in ciò che sono. Una studentessa in attesa di una frazione fluorescente, come dici tu, che mi rivela improvvisamente la fiducia in un mondo in cui sia effettivamente possibile realizzare i propri sogni. Ti ringrazio per averci fatto assaporare, anche se per poco tempo, cosa significa fare ciò che amiamo, o meglio, essere ciò chiamiamo con impegno e sacrificio. Cara Daniela, leggevo una poesia da una nuova moda di abitare le stanze, quando ho iniziato a meditare su una certa questione. Lanciando un sasso su uno specchio d'acqua si producono delle perturbazioni. Il rapporto tra poesia e lettore è pressoché lo stesso, se consideriamo onde le suggestioni che la poesia produce sullo specchio d'acqua. Leggendo, dunque, ero nello stato di smarrimento, a metà tra l'idea che si ha di se stessi prima e dopo un qualsiasi tentativo di contestualizzazione. Accettare di essere una delle tante impronte che il tempo lascia sul terreno, nel caso in cui l'improntaresti, è qualcosa che le menti fragili non possono permettersi, e i tuoi versi mi hanno resa fragile. In ogni caso, la sensibilità è anche un lusso che il mondo oggi rifiuta di concedersi, soffocandola quando germoglia. Io amo il lusso. Grazie per le onde. Giulia. La questione che mi sta più a cuore riguarda la tua vita di poetessa, cara Daniela. Come puoi, mi chiedo, trovare l'ispirazione poetica quando, in questo momento storico, la poesia caduca foglia nel turbinoso vento autunnale, è stata abbandonata ai pochi che ricercano il significato nelle sfumature, nel significante, nella parola in sé, che nella poesia gioca un ruolo determinante? Come si resiste all'impede o travolgente di una società che produce fiumi di inchiostro nel suo ritmo frenetico? Quando vivo la poesia, la mia visione del tempo muta, si aziona in rallenti, ma il tempo continua a scorrere, inesorabile. È un turbine che mi raccina a sé con i suoi piaceri, i suoi doveri. Michelangelo. Cara Daniela, io non me la sento di porle grandi domande relative alla sua passione per la poesia o ai suoi scritti. Penso che un poeta non debba spiegare, non debba rispondere. Il compito del poeta non è che quello di fare, per l'appunto, poesia. Le risposte, quelle grandi, vere, si trovano nei versi, vanno cercate, scoperte un po' alla volta, sbagliando, esplorando. Il mondo della poesia è un mondo da scoprire poco alla volta. Forse sbaglio, sì, ma è così che mi piace fare poesia e chissà se le farà piacere sapere che mi è piaciuto particolarmente avventurarmi nei suoi scritti e metterci un po' del mio. Sara. Cara Daniela, di questo mondo e ritorno all'isola sono due libri diversi, riferendosi il primo al paesaggio toscano e il secondo ad un'isola del Mediterraneo. Quello che mi ha colpito è che nonostante la differenza dei luoghi, delle cose e dei sentimenti, la voce del poeta è sempre la stessa. Ho capito che la poesia ci aiuta a trovare la nostra unicità e ad attraversare le esperienze della vita senza che essa ci travolga. Il poeta, quanto più parla di se stesso, tanto più lo sentiamo simile a noi. Questa è la lezione che mi hai dato. Cara Daniela, ho notato nelle tue poesie una certa luminosità nelle immagini, ma sono sempre immagini del passato. Il passato diventa poetico perché ne conserviamo solo l'essenza. La poesia fa pulizia nel vissuto degli uomini, ricostruisce il senso del tempo che abbiamo trascorso. Ciascuna delle immagini che ho incontrato nei tue versi si è sovrapposta a un'immagine del mio passato e l'ha resa più vivida. Questo significa per me incontrarsi. Grazie Daniela. Allora ringrazio voi per il vostro ascolto, ringrazio i ragazzi e le ragazze che sono intervenute e che credo abbiano dato misura della loro attenzione, di quel tipo di concentrazione e di impegno che hanno dimostrato anche in questo spazio di tempo veramente limitato, perché tutto questo si è svolto in quattro ore. Per cui quello che posso augurare a loro e anche a voi è di andare avanti in questo tipo di ricerca con la stessa intensità e passione che hanno avuto i vostri coetanei che avete ascoltato adesso. Chiudo qui e lascio adesso lo spazio all'intervento dei prossimi studenti del prossimo liceo. Grazie, arrivederci. Grazie.